Buongiorno, mi chiamo Claudio Tomella, sono medico, nutrizionista, presidente di Olosmedica. Le allergie stagionali colpiscono sempre più persone e possono incidere sulla salute e la qualità della vita proprio nei periodi più belli dell'anno. Oltre ad un percorso diagnostico individuato dal medico curante, Olosmedica propone un approccio globale alla persona che prevede l'integrazione fra medicina tradizionale e non convenzionale per la prevenzione e la cura delle malattie. E a proposito di allergie, perché preoccuparsi solo del sintomo senza cercare le reali cause della malattia? Ci sarà un motivo per cui gli individui allergici diventano particolarmente sensibili all'allergenica e per gli altri sono innocui. Per quanto riguarda l'alimentazione, nei periodi più critici dell'anno, sarà utile eliminare o limitare, oltre a quei cibi verso i quali si conosce di essere allergici o intolleranti, anche quelli che stimolano particolarmente il metabolismo e le allergie, come il latte, il pesce, le uova, i lieviti e preferire gli alimenti freschi a quelli conservati. L'omeopatia sarà uno strumento insostituibile. Prevede l'assunzione di un rimedio unico costituzionale prescritto sulla base della totalità dei sintomi. Ma cosa significa? Da oltre 200 anni sono stati studiate migliaia di sostanze chiamate rimedi, in grado di provocare sintomi sull'uomo sano che, per la legge di similitudine, sono anche in grado di curare. In omeopatia al simile e pur al simile, omeopatia significa appunto lo stesso della malattia, diluito per non provocare disturbi e dinamizzato per potenziarne l'azione e farla durare nel tempo, col fine di far trovare all'organismo il suo naturale equilibrio energetico. Ciascun rimedio presenta sintomi fisici che riguardano le varie componenti dell'organismo, la testa, gli occhi, lo stomaco, la pelle, sintomi costituzionali, per esempio la sensibilità al caldo, al freddo, le appetenze o le avversioni alimentari e sintomi mentali, la propria attitudine verso la vita. L'uomeopata nel corso della visita mette insieme tutte le caratteristiche della persona, così come si fa quando si compone un puzzle per individuare proprio un rimedio costituzionale, quindi estremamente personalizzato, che è quello che viene utilizzato anche per il trattamento delle allergie. Lascio ora la parola la dottoressa Laura Cutullo. Grazie Claudio, buongiorno a tutti, sono Laura Cutullo, veterinario omeopata e esperta in floriterapia. Sono con Onosmedica fin dalla sua fondazione e sono consigliere dell'associazione. Nella mia pratica clinica vedo sempre più spesso animali che soffrono di allergie, presentano prurito, titi, congiuntiviti, problemi di diarrea, di vomito ricorrente, prurito. Questo perché succede? Perché il sistema immunitario ha una reazione esagerata verso delle sostanze che di per sé sarebbero innocue o totalmente comuni. Ma perché c'è questo sistema immunitario così reattivo? Perché il sistema immunitario non è un grado di riconoscere la pericolosità di una sostanza, ma soltanto la sua appartenenza a sé. Adesso infatti possiamo considerarlo come un sistema cognitivo, il cui scopo è l'affermazione della propria identità in costante comunicazione con le informazioni che arrivano dall'ambiente interno ed esterno. Quindi possiamo considerarlo in realtà come un indicatore della capacità dell'individuo di sviluppare e anche costruire una chiara e coerente immagine di sé in relazione al mondo. Un altro punto focale dell'allergia è la permeabilità delle membrane. Nei soggetti allergici, la cute e le mucose assumono una permeabilità molto più ampia. Per cui lo schermo che loro costruiscono intorno al corpo in modo tale che le sostanze esterne possano entrare, quindi il filtro che loro creano, si allarga, le maglie diventano più larghe e quindi il rapporto interno-esterno diventa molto più ampio. Questo cosa significa? Significa che comunque l'individuo non ha più un senso di compattezza, di interezza, c'è una generalizzazione dell'incertezza, un'ansia e una paura. Quindi l'allergia non è soltanto un problema fisico, ma un problema di tipo emozionale. Come possiamo agire su questo tipo di emozioni con diverse terapie olistiche, tra le quali quelle che preferisco sono i fiori di bacche e in generale la floriterapia. Per esempio possiamo usare beach per quegli animali che non hanno tolleranza alle cose che loro non va, oppure centauri per quelli che sono troppo buoni, troppo assertivi, veramente si lasciano invadere e non hanno la capacità di affermare la propria volontà. Oppure il walnut e il californiano golden Yarrow che creano una guaina protettiva, o ancora il californiano Joshua Tree che invece dà una centratura e crea una coesione di forze che danno la possibilità di creare una nuova coscienza di sé. I fiori sono tantissimi, se ne possono usare dei buche vari, però dobbiamo sempre individualizzare la terapia. Se volete delle altre informazioni su Olosmedica, sulle attività dei soci potete anche digitare www.olosmedica.it.